Ciao figliolo, ero certa che non mi avresti delusa. Padre, non mi riconosci? C'è qualcosa che non va. Non immaginavi che avesse quell'aspetto? No, no, qualcosa non funziona. Ti va di dare un bel bacio al tuo papà? Vieni qui. Vieni. Bene, lasciati guardare un po'. Sei un ottimo esemplare. Giovane, forte, coraggioso. Non hai nessun difetto, Cori. Sei importante per me perché tu prenderai il mio posto. Non erano questi i batti. Non aveva mai parlato di uno scambio. Solo se mio figlio, il sangue del mio sangue si sostituisce a me, sarò libero di far ritorno alla luce della vita. No, 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 padre. Non lo fare, ti prego. No. No. Ottimo esemplare, vero? Magnifico. Era meglio se ballavi con me, mammoletta. Perchè fai questo proprio a me? Io sono tuo figlio. Anche Cristo rinunciò alla vita per il suo papà. Di cosa ti stai lamentando? Diane!